Ciao, sono Babbo Natale. Lo so che tu non credi in me, ma ti garantisco che io esisto. Sono qui per farmi perdonare. Ricordi quella letterina che mi hai scritto anni e anni fa a cui io non ho mai, mai risposto? Mi spiace. Cercherò di rimediare con un piccolo dono. Non so se ti piacerà, ma sicuramente è un regalo fatto col cuore, che ti farà venire voglia di dire io credo ancora a Babbo Natale. Che faccio? Lo apro? Lo apro per te? Guarda che bel regalo! Almeno quest'anno non andrai in giro a dire Babbo Natale non mi ha regalato un cazzo. Ciao, buon Natale. Ciao. E vai. E vai.